Contagi da Covid-19 in Abruzzo, aumenta il numero degli studenti positivi. In provincia di Pescara lezioni da casa per 2.600 alunni. A Montesilvano riapre il Pala di Martin per poter effettuare gli screening, quindi i tamponi. Ci colleghiamo in diretta con Marina Moretti che è andata a verificare la situazione. Buon pomeriggio Marina, cosa hai potuto constatare? Sì, buon pomeriggio a te Gigliola e ai nostri telespettatori. Con la telecamera di Andrea Berardinelli siamo proprio davanti alla Pala di Martin, al Palacongressi di Montesilvano, dove il Comune da ieri ha subito riallestito un centro che è riservato allo screening per gli studenti della provincia di Pescara, quindi dell'intera provincia di Pescara, scuole dell'infanzia, medie elementari e media, perché sono saliti tanto i contagi. Quindi era importante che anche nelle classi dove si registra un positivo, gli alunni avessero la possibilità di essere testati, così come è importante anche dare la possibilità di essere riammessi a scuola dopo un periodo di quarantena. Il Comune di Montesilvano anche questa volta c'è, non si è fatto trovare impreparato. Qui devo dire anche che sta funzionando tutto bene, siamo qui da quasi un paio d'ore, i ragazzi, i bambini arrivano ma molto rapidamente entrano, vengono espletate le formalità, vengono sottoposti a questo tampone antigenico rapido, attendono il risultato e poi sono già fuori. Sono al momento su circa 215 test effettuati, risultati 9 positivi. Dico anche che al termine della giornata verosimilmente si ripeterà quanto accaduto ieri, cioè circa 600 test fatti alla fine della giornata e fra il 3,5 e il 4% la percentuale di positività individuata. Oggi potranno arrivare 700 ragazzi, a meno che qualche genitore magari in località più distante non decida di servirsi invece di un test della farmacia. Qui comunque la struttura è a disposizione. Quando le scuole segnalano la cosa, avvertono anche le famiglie e dicono se volete portate i figli appunto a fare questi tamponi. Ma per dirci qualcosa in più anche di come funziona la struttura, io se sei d'accordo Gigliola potrei mandare l'intervista che ho realizzato poco fa al sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, anche presidente della provincia di Pescara. Sindaco, siamo all'interno della Paladin Martin dove anche oggi, così come ieri, si stanno effettuando i tamponi rapidi sugli studenti, sui giovani studenti, proprio i più giovani, perché parliamo di scuole anche elementari, medie e dell'infanzia. Ieri sono stati 21 su 577 tamponi effettuati i positivi, pari al 3,63%. Oggi, e siamo comunque alla fine della mattinata, quindi poi ci sarà da considerare anche il numero del pomeriggio, oggi ci dicono che sono circa 9 i positivi su 215 al momento tamponi effettuati, tamponi rapidi, test antigenici. Quindi anche oggi, verosimilmente, la percentuale si attesterà sul 4%. Un servizio che avete voluto mettere a disposizione insieme all'ASL, perché e come vi siete organizzati? Sì, oggi, come del resto, negli ultimi anni è molto importante trovare delle misure di contrasto a questa pandemia. E molto importante è sicuramente la prevenzione. E questi screening servono proprio a monitorare la situazione, a evitare che bambini, ragazzi positivi, li possano veicolare all'interno delle scuole, ma non solo, insomma, il virus. E come è sempre accaduto, appunto, da quando è iniziata questa triste storia, Noi, come Montesilvano, abbiamo messo a disposizione tutto quello che necessita per un svolgimento di queste operazioni ottimali. La struttura Paladin Martini, ancora una volta, è risultata essere struttura molto idonea. Come del resto, anche quello che in questi anni è stata l'organizzazione, attraverso il nostro personale, il personale del COF, il personale dei dipendenti comunali, ma anche i volontari, che ringrazio, come sempre, per il preziosissimo apporto. E le scuole stanno inviando degli elenchi, stanno loro stessi stamattina inserendo i nominativi delle classi che all'interno delle quali si è rinvenuto qualche caso positivo, per uno screening che possa rappresentare in maniera totale il quadro all'interno di queste classi e per, ovviamente, avviare i protocolli a seconda delle positività riscontrate o meno. Marina, hai rivolto anche altre domande al sindaco di Montesilvano e presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis. Sì, sì, ho rivolto anche altre domande che, ovviamente, come sempre, saranno inserite nell'approfondimento serale delle otto giù di lì per anche avere un quadro più completo della situazione sia del Comune di Montesilvano ma anche della provincia proprio di Pescara. Dico subito in conclusione che c'è anche un'altra problematica, ma che riguarda soprattutto i docenti che sono alle prese con un modo di fare le lezioni davvero particolare e complesso. Cioè, a volte ci sono, soprattutto questo riguarda anche le superiori classi, che magari sono in quarantena per metà o ci sono studenti a casa e ci sono studenti in classe, non proprio per metà ma così. Quindi un docente che deve fare lezioni ad allunni che non ci sono e anche ad allunni che ci sono davvero alla vita complicata, magari questo è un altro spunto che potremo avere per altre edizioni della Tg8. Come dicevo è tutto. Gigliola, se per te va bene, ci possiamo salutare. Grazie.